I microfoni di sconfinamenti si aprono ora a Capodistria. Noi siamo ospiti del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria, che ringraziamo per dare l'opportunità a sconfinamenti di effettuare questa registrazione e presentare nel contempo il volume Sapore di Mare, l'antica cucina istriana della professoressa Lucia Cioc. Innanzitutto, professoressa Cioc, buongiorno e grazie per aver accettato l'invito di sconfinamenti. Buongiorno e grazie a lei. La professoressa Lucia Cioc è ricercatrice associata nel campo della sociolinguistica e della didattica delle lingue, nonché professoressa ordinaria di multilinguismo e interculturalismo. In veste di ricercatrice ha fatto fronte a numerose sfide nell'area dell'Istria slovena, un laboratorio etnicamente e culturalmente misto. La professoressa Cioc ha saputo così riunire in ambito a vari progetti un parterre di esperti di fama europea che hanno esposto ad un pubblico europeo allargato la ricchezza delle zone di contatto, quale modello di coesistenza e cocreazione, nonché i vantaggi del multilinguismo e dell'interculturalismo, dell'insegnamento delle lingue e dei modelli di istruzione innovativi in ambienti plurilingui. I risultati delle sue ricerche sono stati pubblicati in numerosi articoli scientifici e monografie. Nella sua opera più recente, intitolata appunto Sapore di mare e l'antica cucina estriana che presenteremo oggi, l'autrice si cimenta in un ambito di ricerca a lei non del tutto sconosciuto, in quanto nell'esplorare l'identità della cucina estriana e le abitudini alimentari dell'area multiculturale estriana, essa va a completare ed integrare i risultati raggiunti in ambito ai suoi precedenti lavori di ricerca. Noi abbiamo letto ovviamente la quarta di copertina di questo interessante saggio, di questo interessante lavoro. Professoressa Cioc, questa pubblicazione è stata confinanziata da che? È stata confinanziata dai fondi europei per la pesca e per l'area marina e poi anche dal lato del nostro istituto. Professoressa Cioc, partiamo dalla copertina. Possiamo far vedere idealmente la copertina? Che cosa è stato scelto per far capire a chi prenderà poi in mano questo volume l'importanza del suo contenuto? Abbiamo scelto apposta Weikart Valvasor, una vecchia stampa che dimostra come l'hanno vista nel 1700 e qualcosa, che non ricordo nel 1700 e nell'800, come l'hanno vista con i nomi dei paesi, delle città e con il golfo di Trieste o quello copernistriano. Sapore di mare, l'antica cucina estriana. Quali fonti ha utilizzato, professoressa, per advenire alla stesura del testo? I fonti sono parecchi, sia quelli storici, cioè le pubblicazioni che ne parlano sia dell'area itica, sia dell'area marina, sia dell'area anche gastronomica. Le pubblicazioni sono parecchie. E poi, viva voce, cioè l'oral history, cioè le persone, ci sono più di una ventina, quasi una trentina di testimoni, che hanno parlato di ciò che è la cucina, l'antica cucina estriana, di ciò che succede attorno alla cucina estriana, e degli usi e dei costumi nella gastronomia e anche nell'uso delle pietanze. Professore Saciocchi, qual è stato il periodo storico che è stato preso da lei in esame e precisamente anche quale territorio? Il territorio è più o meno l'Istria del Nord, cioè dei comuni che fanno parte della Slovenia, però non è possibile non passare le frontiere, anzi, non è possibile averne queste frontiere, però alcune cose sono state centrate più su questo territorio. Il periodo storico che ho preso è la caduta della Serenissima, dopo la caduta, perché volevo vedere che cosa sia rimasto di tutto quello che la Serenissima, che la Repubblica Veneziana ha dato in quasi più di un mezzo millennio di periodo che insomma governava queste terre, e poi fino alla Seconda Guerra Mondiale, perché dopo la guerra le cose sono molto diverse, soprattutto per varie ragioni, per esempio non solo l'Esodo che ha vuotato queste terre, ma anche gli afflussi migratori che hanno portato altre genti e altri costumi. Focalizzando l'attenzione su questo territorio, possiamo parlare di una cucina con influenze di diversa provenienza e di un vero e proprio patrimonio culinario? Certamente, certamente possiamo parlarne. Il fatto è che la cucina è mediterranea, poi di base veneto, cioè veneziana. Qualcuno dice anche cucina triestina, cucina, insomma io la chiamo veneziana perché penso alla Repubblica, quello che ha lasciato la Serenissima dietro a sé. E poi ci sono diversi periodi storici che hanno portato altri usi, altre pietanze. Per esempio, strano che anche i francesi, essendo così poco nelle repubbliche illiriche, cioè nell'Illiria, anche quella ha portato per esempio i sughi, le salse, quelle che non si conoscevano prima. Invece l'Austria ha portato i dolci, cioè molti dolci che sono adesso d'uso ancora, sono di provenienza austriaca. Io non ho mai toccato però gli usi che sono arrivati dai Balcani. E quindi, professoressa, lo studio della storia estriana si può declinare anche attraverso i flussi alimentari? Certamente, certamente. Io credo che la cultura alimentare sia una delle culture umane, cioè fa parte della vita di qualsiasi persona tra noi, anche se cambiamo gusti e se cambiamo usanze, però presentiamo un certo modo di vivere. Ogni piatto dunque ha la sua storia, possiamo usare questo termine? Certamente, sì. Ogni piatto. Anche ho fatto apposta un po' di ricerche per trovare perché questo piatto, perché si chiami così, perché si usi così. Perché di solito, per esempio, se prendiamo solo il finocchio selvatico, trovandolo che si usava nei tempi delle streghe a gettarlo sui roghi perché si presentava, non so, come un scaccia malori o qualcosa, scaccia disgrazie, no? Cioè, tante cose si sono legate alle pietanze. Il suo saggio, il suo libro, Sapore di mare e l'antica cucina istriana, riporta anche alcune ricette istriane. Si tratta di fonti scritte o di fonti orali? Piuttosto è combinato, no? Se uno, per esempio, è venuta una signora che mi ha detto, ma guardi che non è proprio così. Si può fare, per esempio, altrimenti si può usarlo come dolce, si può usarlo come cibo piatto primo, no? Però il fatto è che ci sono differenze tra paesi, tra città, che sono qualche volta di piccola misura. Per esempio, le differenze tra le frittole, diciamo, triestine e le frittole piranesi. Le frittole piranesi usavano la zucca con le mele e già portava un altro sapore a questo dolce. Possiamo parlare oggi di differenza tra cucina istriana dell'introterra rurale e quella cittadina costiera? Parlando dell'oggi, ma anche riferendoci al passato. Certamente. Nella storia si sa che le città erano piuttosto appartenenti alle popolazioni italiane, cioè italiani, e invece l'interno era parecchio di origine slava, cioè croati o sloveni. E all'interno si usava un po' differentemente anche l'uso del pesce, per esempio. Il pesce non presentava una pietanza giornaliera, ma si mangiava solamente a venerdì, per esempio. I venerdì o, per esempio, si portavano le saurine, le portavano a casa tornando dai loro viaggi a Trieste. Invece il mare, i pescatori, parlo soprattutto delle famiglie non nobili. Nel mio libro non parlo della cucina, parlo del brughese o della cucina dei nobili, perché quella è un'altra cucina, è una cucina molto europea. Invece i pescatori e le famiglie semplici avevano il pesce tutti i giorni sui piatti. Anzi, se le dico un'aneddote, che Tony diceva Maria, metti su la polenta che io vado a prendere i pesci, cioè lì vicino al Portorose, lì intorno in quel tipo di golfo c'era sempre molto pesce, che oggi purtroppo non c'è più. Allora, vede, era un'abitudine giornaliera a mangiare il pesce. Invece la carne si mangiava di domenica. Invece nell'entroterra si mangiava parecchia carne, se c'era di casa, certamente, non dalle macellerie, perché non c'erano. Poi si mangiava molto, molta, molta verdura. Professoressa, le farò una domanda forse pleonastica, perché ci sta ascoltando da queste latitudini, ovviamente. Chi erano i paolani, le saurine, che lei ha già introdotto nella risposta precedente, e anche le pancogole? Beh, le donne, certamente, anche non essendo il massimo padrone della casa, portavano, insomma, tutto il peso della vita della famiglia. E queste donne, che erano soprattutto di origine slava, portavano sia il pane, sia il latte, sia le uova, nelle città, da Pirano a Trieste. Tutte le mattine, se prende lei, se prende lei, per esempio, l'esempio delle pancogole, delle crucialize, pensi lei una donna che la mattina si mette un po' a riposare, quando torna da Trieste, perché a Trieste è stata la mattina presto, portare il pane ancora caldo. E poi si alza e comincia a impastare un'altra porzione per portarlo la sera, va al forno comune del paese, poi, quando è ben cotto, lo mette nei sacchi, insomma, lo avvolge, che non si raffreddi troppo, lo mette sul suo asino, e si li porta la mattina alle cinque e già nelle famiglie triestine. Ci pensi lei che vita? Torna, prende un po' di farina, di cose che le servono nella città, e poi torna a casa, si mette un'ora a dormire e continua la sua vita. Ci pensi lei questo tipo di vita? E le yaicharize, cioè quelle che vendevano le uova, che portavano le uova, facevano il giro di tutti i paesi prima di raccogliere tanta uova da portarle in città. Dunque, questo è le paolani, i paolani erano invece una specie di contadini, che però vivevano nelle città. Venivano la sera, io mi ricordo di avere un compagno di classe nella scuola alimentare, che aveva ancora un asino in città, perché il suo padre andava come paolano a lavorare ancora sempre nelle campagne. Dunque, anche dopo la... Io sono a Capodistria già quasi 70 anni, no? Dunque, ricordo quei tempi prima dell'Esodo. Io ricordo ancora l'Esodo, perché tutti i miei amici sono partiti nella strada dove stavo. Allora ci sono delle memorie veramente antiche anche da parte mia. E le saurine invece? Le saurine sono... si chiamano saurine perché erano più dell'interno, no? Le saurine facevano di tutto. Alcune volte portavano a Trieste il pane, le altre volte le portavano... Saurine diremo che è un nome generico di tutte queste donne. Sapore di mare e l'antica cucina istriana. Professoressa Cioc, le pietanze povere del passato rappresentano una vera e propria sfida per l'alimentazione anche dell'epoca attuale? Certamente. Queste pietanze sono molto sane perché sono pietanze molto, molto originali. Se le dico che le interiora dei cefali si mangiavano una volta, pensi lei, si facevano... si chiamavano elboton. erano polpettine dell'interno, dell'interiore dei cefali. O per esempio la brovada che è una specie di... non è cappucci garbi, ma è bietola garba. E poi altre cose, per esempio si mangiava strutto che ora è sempre di nuovo diventato considerato salubre che un tempo non si sapeva che fosse, no? E poi la polenta, la polenta di tutti i tipi, di tutte le possibilità, con verdura, le frittaglie, tutte cose molto, molto, molto buone anche. Perciò si fanno onore ancora oggi. Ci sono molti studi scientifici per quanto riguarda la mancanza di specie etiche nel mare Adriatico oggi, attualmente. Quindi questa mancanza ha alterato anche la cucina estriana? Beh, adesso per dirle il vero sono un po', mi consolo un po' il fatto che ritorniamo alla vecchia cucina, all'antica cucina. Ci sono sempre più questi bisogni di vedere quale fosse l'originale di una volta. Perché nel tramezzo, soprattutto nel secolo passato, tra Cevapcici, Pleskavice o Doiek sono cose che non sono di qua. Cioè cibi che non appartengono a questa gente, però sono buoni, se li mangia. E adesso vedo che non è, non si offrono più i turisti i soliti Cevapcici, ma si offre molto di più alcuni cibi antichi dell'Istria. Ma, professoressa, ciò che in conclusione, che significato attribuire quindi al mangiare assieme? Questa è anche una delle abitudini. Quando ho parlato con i testimoni mi raccontavano le domeniche, come erano le domeniche, si mangiava veramente insieme e anche le sere, le cene, erano cene di famiglia. Non si mangiava ora tu, poi un altro, io non ho tempo, io tornerò più tardi. Questo non esisteva. C'era l'ora fissa per le cene, soprattutto, un po', un po', non troppo tarde però, no? Però, le domeniche cosa non si faceva? Si faceva di tutto per essere insieme, per poi giocare a carte agli uomini, le donne, a chiacchierare, a raccontarsi tutti i fatti della settimana e questo proprio, come dice anche l'UNESCO, nella sua lista mediterranea, che si può anche vedere, ci si può registrare come cibo o come usanza, parla moltissimo di cosa significa l'alimentazione come atto sociale e culturale. Professoressa Lucia Cioc, innanzitutto, avendo sentito le sue parole che, come dire, ci hanno presentato il suo saggio Sapore di Mare, l'antica cucina istriana, abbiamo capito che lo studio della storia istriana si può declinare anche attraverso i flussi alimentari che è importante anche attraverso la storia capire e leggere il territorio, lo stare insieme, il mangiare assieme come abbiamo sentito dalle sue parole. Ma per un nostro ascoltatore che si fosse interessato e desiderasse approfondire i temi del suo saggio che noi, ovviamente, in pochi minuti non siamo riusciti ad approfondire, c'è la possibilità di avere una copia o magari anche di scaricare in formato digitale il pdf di questa pubblicazione e lo ricordo Sapore di Mare l'antica cucina istriana? Per avere l'originale cartaceo bisogna rivolgersi alla casa editrice che è la casa scientifica Anales. Invece per un pdf stiamo preparandolo però per un singolo che avrebbe molta voglia può anche farlo lei. Certamente come sconfinamenti ci prendiamo l'impegno qualora un nostro ascoltatore desiderasse avere una copia in formato pdf il sito sedefwg.rai.it troverà poi anche la mia mail come curatore della trasmissione in modo tale che io possa poi trasmettere a mia volta e chiedo scusa per il gioco di parole il testo che abbiamo presentato oggi ai nostri microfoni lo ricordo Sapore di Mare l'antica cucina istriana grazie per essere stata ai nostri microfoni ma grazie soprattutto per il lavoro che lei ha svolto non soltanto nella stesura del testo ma soprattutto per quanto concerne le ricerche. Beh guardi molti si sono meravigliati come mai ho lasciato la lingua pura pura e profonda e tornando alle abitudini di alimentazione però c'è un legame perché il mangiare è una comunicazione dunque siamo sempre nell'ambito delle comunicazioni interculturali grazie a lei di avermi invitato e tanti saluti ai vostri ascoltatori grazie a tutti grazie a tutti